Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale, la nuova patch ha cancellato le penalità a Tokyo quindi in questa gara, la famosa WTC da 600pp, anche se finite a muro, non beccate più una penalità cambia tutto perché ovviamente diventa ancora più facile in questo video voglio portarvi il setup della escudo qui a Tokyo, 600pp come ho detto seguite tutto il video, non perdetevi nessun passaggio perché sennò inizierete a dirmi non funziona una cosa, non funziona l'altra e poi tramite i commenti diventerebbe tutto più difficile quindi il video sarà molto breve, lo prometto, vi faccio vedere adesso velocemente questo primo giro sono secondo ma arrivo l'otto con Gallo a breve strategia semplice, una sola sosta, mappatura per tutta la gara A1 purtroppo come sapete i replay non ci fanno vedere dei dettagli interessanti quindi mappatura sempre 1, TCS l'ho tenuto spento e l'unico rifornimento benzina perché non cambiate le gomme sono le Comfort 2 ragazzi, purtroppo sono queste e lo farete questa sosta, la farete o al settimo o all'ottavo giro dipende da voi quanto avete spinto con le marce e quindi quanto avete consumato tirando maggiormente le marce quando avete consumato la benzina spero sia tutto chiaro, una sola sosta, settimo o ottavo giro sta a voi, non si cambia le gomme, si fa soltanto neanche il pieno perché poi mancherebbero 5 giri circa quindi sta a voi lasciare un po' più di margine per gli ultimi giri e spingere ancora di più molto semplice, la gara si chiude in 26 minuti circa qualche secondo in più o in meno dipende appunto dei vostri tempi primo giro visto, Gallo lì lo speriamo abbastanza easy vediamo la fine di questo tornantino spero, perché è un piccolo colpetto per mandarlo foglio a dato ma c'è un cambio di direzione lui qua ha una ripresa come vedete molto più ha anche un altro paio di ha anche altri pneumatici installati montati rispetto ai nostri quindi con le comfort duro abbiamo fatto quello che potevamo ma come vedete al termine del primo giro siamo dietro di lui attaccatissimi adesso lo superiamo faccio quindi neanche il primo giro arriva adesso siamo arrivati il record del nostro non so se mi ha fatto 2 minuti e 6 ok il giro veloce comunque questa è la prima parte adesso andiamo subito 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 a vedere cosa cosa comprare no, lo possiamo vedere direttamente dal setup andiamo questo è lo schermino originale con cui arriva vedete ci sono 991 cavalli di base 841 pp e il resto ma a sinistra vedete le prestazioni dell'auto che sono riuscito a generare grazie a questo setup lo apro guardate quanti ne ho tentativi infiniti ogni patch qua cambiano tutto se volete prima di guardare il setup lasciate un mi piace così continuerete a supportare i contenuti che porto e io di conseguenza ne porterò sempre di più eccolo qua 600 pp 1,25 la patch comfort 2 ragazzi potete provare a fare con le comfort 2 e le sport dure sul posteriore una delle due fate voi così funziona qui sono i dettagli della regolazione all'altezza del suolo tirata al minimo davanti e un po' più diciamo a metà tra la parte centrale e quella minima sul posteriore baran tiroli ho spinta un po' sul massimo davanti e 4 medio credosi poco sotto sulla posteriore 40-40 la compressione espansione 50-50 la frequenza naturale 4,65 campanatura negativa 0,4 per entrambe le parti l'angolo di convergenza l'ho messo a 0 lsd questi dati qua non cambiano più niente ma sono quelli che piacciono a me comunque coppiate li pure deportanza minimo e massimo personalizzabile il computerino di bordo non lo toccate purtroppo tra una pace e l'altra cambiano tutto e siamo dovuti salire oltre i 190 quasi i 200 chili zavorra posizionati sul 48 perché se vado in realtà davanti super è strana che sta cosa guardate i calcoli come sono sballati comunque 48 84 limitatori di potenza riusciamo a garantirci comunque 1800 cavalli alla lucatoni le marce le vediamo dal secondo qui a destra tutta la parte destra non c'è niente il kit nascosto dalla mia webcam è normale c'è solo il turbocompressore a regimi elevati che ci consente di passare da 833 cavalli a 1800 questo lo trovate nella messa a punto come il computerino di bordo come la zavorra come limitatore come il rapporto di marce da corsa personalizzabile anche questo è nella messa a punto le gomme sono nella messa a punto le sospensioni è differenziale anche cosa importante il differenziale vettore di coppia questo potete distribuire diversi valori io l'ho messo bilanciato 50-50 fatto questo la parte fondamentale perché senza questo ritocco non ce la farete a guidarla così fare questi tempi consumare così essere così reattivi e tutto quanto velocità di punta in realtà arrivata oltre 320 che vedete lì comunque metti 320 regolazione manuale potete se volete smanettare un po' con questi ultimi due valori perché qua in realtà da 3,55 dopo lo slash 3,55 è la velocità massima che raggiunge mentre la parte a sinistra di questi due numeri è il rapporto come si settano le marce dall'ultima alla prima quindi impostate il finale così e andate su su tutte le altre spero che il video non sia stato troppo lungo spero non vi siate annoiati anzi siete divertiti copiate il setup lo portiate a Tokyo e vi divertiate lì sopra vittoria garantita colpite pure le barriere se volete ovviamente non fatelo penalità però non ne avrete ho doppiato un paio di piloti con la sola sosta loro ne fanno almeno due ci sono altri setup con altre auto senza soste o volendo anche questa potreste farla senza soste mappando tutto a 5 però preferisco spingere tempo totale è più veloce con questo setup tutto qui però come ho detto poco fa vi possa piacere questo video lasciate un mi piace iscrivetevi al canale attivate la campanellina così con tutti i futuri setup i caricamenti vi arriverà la notifica grazie ancora e ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.